benvenuti ad un nuovo episodio di minion rush vabbò ma comunque buon buon buona pasqua ragazzi io purtroppo non ho avuto le uova però vi beccate minion rush che lo riportiamo dopo un bel dopo un bel po di mesi o no devo scaricare i contenuti vostra mamma che me li scarico i contenuti ragazzi in realtà ci ho messo pochi secondi dai facciamo come il gitante che in realtà non so nemmeno perché lo faccio comunque dai siamo pronti ragazzi lo ricordo questo gioco lo giocavo quando ero ancora a salerno veramente nostalgico come si è anche invecchiato abbastanza bene questo gioco e tra l'altro era prodotto dalla gameloft che ha fatto che hanno fatto altri giochi che diciamo che che sono abbastanza diciamo rimasti nella mia infanzia videoludica no ragazzi ho letteralmente preso una cosa delle banane per poi nemmeno beccarne una di banana bananas rottate ok abbastanza confusionario ve lo posso dire questo questo gioco perché o no ragazzi però prendere molta attenzione quindi non posso parlare tanto perché ragazzi questo gioco si è così difficile anche quando la prima volta quello giocato spero che non mi crashi mobizen se mi crasha mobizen risveglio ogni santo che sia maestro mi dissocio ovviamente e che e che ragazzi io devo fare content se riesco a fare content son fottuto vabbò ok dai fai sta cosa stiamo sbloccando il mascherato uno dei più fichi ok altro che vorrei allora ragazzi sarà già un obiettivo raggiungere i dieci minuti di video che posso accettarli oh la spiaggia ragazzi questo gioco è così era così bello tanto ragazzi dovrei fare un rewatch di cattivissimo a me che ragazzi era veramente un film che mi sono letteralmente sparato da quando ero piccolo cioè ma nemmeno voi me lo immaginavate quanto era bello quel film cioè ragazzi sono arrivato a giocare a questo gioco anche a tipo c'era tipo qualche evento per tipo cattivissimo me 3 mi ricordo la schermata di tipo il trailer ordinare i biglietti alla fine me lo sono anche visto cattivissimo me 3 mi ricordo che mi quasi che mi ero quasi fatto non venire più al cinema a causa dei miei comportamenti là per fortuna che sono riuscito ad andare al cinema qualche altre volte purtroppo non vado dal cinema al cinema da un bel po' di tempo e adesso con la situazione che sono adesso grazie al cacchio io vado al cinema ma c'è c'è nemmeno usa e getta dai uso l'arbitro arbitro ma perché una così semplice dai mi piaceva ah devo saltare 5 volte no devo invece saltare ok devo saltare 5 ostacoli yes ok bene e vabbò ragazzi proprio io che che rascio ragazzi un giorno dovrei farci una speed run di sto gioco con la musica di dream oh no questa parte la odio ragazzi non lo sapete ma questa parte la odio perché in pratica girare il tablet è ragazzi questo è abbastanza distrattivo cioè almeno per io che devo comunque usare un software un'app scadente per registrare il gameplay dai ne sono uno mi si era fatta qualcosa con la gengiva ma comunque abbiamo completato l'obiettivo pubblicità che ovviamente voi vedete perché vabbò la schippiamo sta pubblicità spero che non mi crashi momizen perché se mi crasha momizen ve lo ricordo io prendo ogni santo e lo porto giù perché devo studiare per religione anche se io non vado più a scuola perché ve lo sapete le circostanze ragazzi un po' la respirazione bocca a bocca quando dopo aver superato una pubblicità mentre registro con momizen da quell'effetto ma io voglio andare là ok ragazzi mi impeccherete ma non dirmi che tipo ma non era il corridore yes ho sbloccato il corridore adesso noi siamo pronti per una vera corsa comunque ragazzi sto gioco si ricorda ho gelato si ricorda e anche bene ok qua dobbiamo solamente correre per un bel po' di tempo io attualmente sto anche facendo abbastanza bene nel poter prendere raga per un pelo ho perso esattamente per un pelo letteralmente per un pelo ma è lo scudo minion sono ciccio gamer se il video ti è piaciuto metti un mi piace se no sei un cornuto o faceva così la canzone di ciccio gamer sono ciccio gamer se il video ti è piaciuto lascia un like se no sei un cornuto oh raga la città la rifacciamo ovviamente sempre apprezzata la città che non lo so ci sono molte più cose che si possono fare nella città tra l'altro dobbiamo provare a fare lo scivolo quando entriamo nella casa non so se voi avete capito anzi comunque il gameplay in stile subway surfer che forse sto un po' troppo discutendo di questo in realtà non sto discutendo dell'effettivo gameplay sto per lo più elogiando i creatori di cattivissime facendogli venire il pipo duro ok ma io voglio andare alla casa e andare a fare la cosa la yes ci stavo arrivando alla città ok aca sterminatore aca frantumatore aca l'imperatore aca abbiamo capito manu tu scorre liscio fino a tarda mattinata quando ciccio viene in mente di scartare la posta arrivata idea del tutto sbagliata aca la genialata aca aridaglie ma fa figo ok ragazzi completiamo questa corsa e ci salutiamo allora ragazzi ieri ho registrato un paio di reaction a dei recenti episodi di smg4 e volevo trovare l'episodio post genesis arc il problema è che non l'ho trovato invece mi sono beccato della me che proprio però ci reagiremo all'episodio post genesis arc ci reagiremo dopo averci completato tutti gli altri episodi post arc durante l'estate ma comunque con questa schermata vi saluto